buongiorno siamo arrivati a cala de saghila spiaggia caraibica mare caraibico tabù caraibico allora parcheggiato lì per direi dei motivi abbastanza comprensibili ragazzi qua probabilmente lo fanno apposta a non sistemare la strada per non far scendere le auto si scende a piedi un paio di chilometri la strada è completamente dissestata probabilmente con un mezzo un po aggressivo alto ci si passerebbe ma non è una questione di 4x4 proprio che si tocca con la pancia del mezzo quindi bisogna aver mezzi alti e allora si riesce a scendere altrimenti se si tocca con la pancia sull'asfalto non se ne esce bisogna chiamare il carro attrezzi poi ok penso di aver trovato il posto più bello in assoluto dell'isola di majorca ho scoperto che è accessibile col van anche se è una strada molto difficile molto tecnica voglio tornare qui magari non da solo perché perché serve casomai una persona che esce dal dal camper e vede sotto se tocchi se non tocchi vai un po destra vai un po sinistra un punto di vista esterno per fare queste strade ci vuole vale veramente la pena è un posto veramente allucinante quando immagino il paradiso è così con l'immagino grazie a tutti grazie a tutti buongiorno anche se oggi è brutto oppure è piovuto e io mi son perso tabù mamma mia che brutto mamma mia che brutto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti mi sono grazie a tutti grazie a tutti con la musica giusta con la birra una volta che bevo qualcosa allora ragazzi oggi grigliatina nella come si chiama una villa questa non è una finca no questa è una villa nella villa chalet si chiama chalet ah chalet com'è che si devono sentire gli altri delle merde perché perché non hanno fatto un cazzo guardano cosa abbiamo fatto io un cazzo tu non hai fatto niente ha bevuto però intanto guarda cosa abbiamo fatto qui vedi i carciofi l'abbiamo guardato qui sono melanzane le melanzane questo ragazzi salmone guacamole pate foie gras brie carciofi patatine melanzane veronica siglia con gli occhietti stanchi sbagliare sbagliare mira lo sento mucho io quiero approfonditare l'energia attravi la l'energia la l'energia si se si 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 Sì, andiamo da l'altra parte. Scusate di uno! Scusate! Scusate! No, no, no! Scusate! 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 Scusate, sometimes you are right But don't forget that we have an Ibaco daily so we can go really everywhere and now we go oh my god oh my god oh my god yeah that's normal oh my god hey you got to your car oh my god i'm so sorry i'm also suffering oh my god arrived oi 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 i o o o o Grazie.